E' ancora polemica sulle parole di Elon Musk contro i giudici italiani che hanno di fatto sospeso il trattenimento dei migranti nei centri in Albania. L'Associazione Nazionale Magistrati si dichiara sconcertata e preoccupata, mentre poco fa è intervenuto anche il capo dello Stato Mattarella. L'Italia è un grande paese democratico che sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione. Stamani Musk ha rilanciato con un altro post. Intanto sono arrivati a Brindisi sette migranti provenienti dai centri in Albania. Alla COP29 la conferenza mondiale sull'ambiente in corso a Baku, in Azerbaijan, Giorgia Meloni espone la roadmap dell'Italia sulle fonti energetiche. Non c'è una soluzione immediata, gas e petrolio servono compromessi e pragmatismo, ha detto la Presidente del Consiglio, che punta per il nostro paese non solo sulle rinnovabili, ma anche sulla fusione nucleare come possibile. Svolta storica. Dopo l'aria apertura dei termini del concordato fiscale, il Ministro Giorgetti difende l'impianto della legge di bilancio, ma dalle opposizioni annunciano battaglia in aule. Oggi Schlein, Conte e Calenda contestano separatamente il contenuto della manovra finanziaria. È recessiva, non prevede investimenti, ma soltanto tagli e mance elettorali, dicono i leader di PD, 5 Stelle e Azione. La Guardia di Finanza in Campidoglio. A Roma le fiamme gialle perquisiscono gli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici. Cinque indagati per corruzione, turbativa d'asta e frode negli appalti milionari per il rifacimento del manto stradale. Sono quattro funzionari comunali e uno di Astral. Sarebbero stati corrotti da un imprenditore di frascati. Nel mirino anche la gestione dei fondi per il giubileo. Alle ATP Final di Torino entusiasmo del pubblico dopo la vittoria di Annick Sinner contro lo statunitense Fritz. Il numero uno del mondo si avvicina alla semifinale. Domani in campo contro Medvedev. Nell'altro girone è rientrato il rischio forfè di Carlos Alcaraz che oggi pomeriggio affronterà il russo Rublev. Buongiorno dalla Telegiornale della Sette. Dunque in primo piano il caso politico suscitato dall'affermazione di Elon Musk sui giudici italiani sul loro operato in merito di gestione dei flussi migratori. Sull'argomento è intervenuto in mattinata anche il capo dello Stato Mattarella chiedendo che venga rispettata la sovranità nazionale da parte di un imprenditore che peraltro da oggi come vedremo tra poco ha anche un ruolo politico all'interno dell'amministrazione che sarà gestita da Donald Trump neoletto presidente. Un imprenditore che questa mattina Elon Musk appunto è tornato a parlare di questo caso con affermazioni molto forti. L'Italia è un grande paese democratico e sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione. Interviene oggi così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle parole di Elon Musk che ha preso posizione nei confronti dei giudici italiani sul caso dei rimpatri di migranti dall'Albania. Chiunque si legge in un comunicato del Quirinale particolarmente se come annunziato in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un paese amico alleato deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartire le prescrizioni conclude Mattarella. Il post del tycoon americano diventa così un caso politico e da oggi una nuova appendice. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni? Il contenuto social di un nuovo intervento a gambatesa del proprietario di X. L'incursione dell'uomo più ricco del mondo, ormai di fatto braccio destro del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, porta ad un livello superiore la polemica fra centrodestra e Toghe che riguarda non soltanto le politiche del governo in materia di immigrazione ma anche la separazione delle carriere su cui l'esecutivo ha impresso un'accelerazione in Parlamento. Nel post rilanciato sui social il patron di Tesla contesta la decisione che mette di nuovo in stand by il protocollo tra Roma e Tirana offrendo un assist all'esecutivo di Giorgia Meloni che non intende fare passi indietro. Nella tarda serata di ieri Musk ha quindi rincarato la dose definendo la ONG Sea Watch un'organizzazione criminale. Non ci facciamo intimidire da bulli antidemocratici che minacciano chi rispetta i diritti umani, giudici ONG. La replica a Musk dell'organizzazione non governativa. PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa chiedono alla presidente Meloni di intervenire e difendere l'Italia. Il silenzio della Premier sul caso è stigmatizzato dalle opposizioni ma soprattutto dalla NM che definisce gli attacchi del tycoon una grave interferenza. Per il sindacato delle Toghe non è più in gioco l'indipendenza della magistratura ma si tratta della sovranità dello Stato italiano. In un'intervista Repubblica stamani il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro parla di aggressione brutale di Musk. Neanche con Berlusconi i magistrati venivano trattati così, afferma. E se apertamente solo il vice premier Matteo Salvini offre la sponda, Musk ha ragione, scandisce, anche nella maggioranza non manca chi storce il naso davanti al controverso tweet. Sono parole inopportune, ripete oggi il leader di noi moderati Maurizio Lupi, mentre da Fratelli d'Italia si smarca Fabio Rampelli. I giudici che si oppongono alla nostra politica sui rimpatri sbagliano, scrive in una nota, tuttavia siamo attrezzati per difenderci da soli. E di fatto dopo la decisione dei giudici di sospendere il trattenimento dei migranti nei centri in Albania, questi centri risultano vuoti ma le spese che sono già state oggetto nei giorni scorsi di polemica per quello che è il costo della trasferta dei 300 agenti presenti, le spese, dicevo, corrono. Dopo il rientro in Italia del secondo gruppo con solo 7 migranti, in Albania i centri appaiono così, desolantemente vuoti. Per questo il Viminale ha avviato un'operazione di alleggerimento, i primi 50 agenti ritorneranno in Italia. Tecnicamente si definisce rimodulazione dalle attuali 220 unità tra poliziotti, finanzieri, impiegati ed agenti della penitenziaria si passa a 170 persone, un numero che permette di gestire i turni senza sguarnire la sicurezza dei centri. Con le strutture in piena funzione il personale arriva a 300 addetti ma vista la mancanza totale di ospiti e le polemiche dell'opposizione per i costi dell'operazione Albania che sfiorerebbe il miliardo di euro è sembrato più opportuno tagliare dove possibile al momento. Anche perché deputati di Alleanza Verdi e Sinistra più Europa e Movimento 5 Stelle hanno presentato esposti per danno erariale alla Corte dei Conti. Ma non c'è nessun ripensamento dell'esecutivo, il progetto va avanti, come dimostrato dalla pubblicazione da parte della Prefettura di Roma dell'avviso di una nuova procedura negoziata senza bando per la manutenzione dei due centri italiani in Albania. L'importo totale è di 3 milioni e 200 mila euro e, trattandosi di procedura negoziata, il Viminale potrà affidare direttamente l'appalto ad un operatore economico senza il preliminare della gara pubblica. Nell'hotspot di Shenzhen, il porto dove sono sbarcati per ora il primo gruppo di 12 migranti, seguiti dal secondo di 7, al momento ci sono solo impiegati del Ministero dell'Interno ed agenti di Polizia. Stessa situazione nel centro vero e proprio, a 20 chilometri di distanza, quello di Jader. Qui ci sono anche gli agenti penitenziari vista la presenza di un carcere da 20 posti, oltre al centro per il trattenimento di richiedenti asilo da 880 posti ed un CPR da 144. Oltre ai costi di realizzazione e gestione delle strutture, la voce più consistente è quella del personale dall'Italia, oltre 250 milioni, mentre per la nave il noleggio sarebbe di circa 14 milioni per tre mesi. Costi da contenere vista la polemica politica. Allora, dicevamo in apertura delle parole di Elon Musk del fatto che da oggi ha sostanzialmente un ruolo anche politico, in quanto Donald Trump lo ha nominato a capo del Dipartimento per l'efficienza del governo. Dovrà Elon Musk snellire la burocrazia, tagliare alcuni costi e anche, in alcuni casi, alcune norme ritenute di troppo per rendere efficiente e veloce quella macchina di governo che Donald Trump, proprio in queste ore, sta assemblando. Con la conquista in Colorado del seggio numero 218, il Partito Repubblicano si aggiudica anche la Camera dei Rappresentanti, mentre Donald Trump prosegue con la nomina di una raffica di fedelissimi per la sua futura amministrazione. Una squadra variegata, dura sull'immigrazione verso la Cina e l'Iran, è saldamente pro-Israele, pronta a rimuovere ogni eventuale ostacolo che metta a rischio il programma del presidente eletto. Si aggiunge alla squadra del 47esimo presidente degli Stati Uniti, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, produttore di auto elettriche, razzi e satelliti. Sarà lui a guidare il DOGE, acronimo che sta per Department of Government Efficiency, creato ad hoc per smantellare la burocrazia. Non si capisce ancora bene di che tipo di struttura si tratterà. Diventerà il progetto Manhattan dei nostri tempi, sottolinea Trump, a cui annuncia collaborerà anche il patriota americano Vivek Ramaswamy, imprenditore e giornalista di origini indiane, già candidato alle primarie repubblicane. Il Dipartimento per l'Efficienza del Governo inizia bene, grazie alla leadership condivisa. Due persone svolgono il lavoro di una. Sì, sembra davvero efficiente. L'amare ironia della senatrice Dem, Elizabeth Warren, espressa in un post su Ex. A sorpresa, il capo del Pentagono sarà Pete Hegseth, veterano pluridecorato e volto di Fox News. Nessuna esperienza a livello strategico. Il 53enne senatore della Florida, Marco Rubio, per il proprio falco su Cina e Iran, ricoprirà il ruolo di segretario di Stato. Con lui, a capo della diplomazia a stelle strisce, Trump si aspetta passi avanti verso la fine della guerra in Ucraina, mentre il premier israeliano Netanyahu avrà mano libera nella regione mediorientale, ricevendo ulteriori aiuti militari da Washington. Michael Valls, ex ufficiale delle Forze Speciali, sarà consigliere per la sicurezza nazionale. Stephen Miller, vice capo di gabinetto. John Ratcliffe guiderà la CIA. La governatrice del South Dakota, Christine O'Em, sarà segretario della sicurezza interna. Tom Oman, all'immigrazione. Elise Stefanik, sarà ambasciatrice delle Nazioni Unite. Mike Huckby, ambasciatore in Israele. Stephen Whitcoff, consigliere speciale per il Medio Oriente. Bill McGinley, direttore dell'ufficio legale della Casa Bianca. Alle 17 ore italiana, Biden riceverà il successore nello studio vale, per il rituale passaggio di poteri che nel 2020 non ci fu, perché Trump non riconobbe la vittoria dell'avversario Dem alle elezioni. E' proprio Donald Trump grande assente, ma molto presente a Bacu nei pensieri di chi si occupa di lotta al cambiamento climatico e di preservazione dell'ambiente. È arrivata in Azerbaijan la COP29 sul clima, anche quello che è stato l'appello oggi del Papa ad agire perché la situazione attuale non consente ulteriori ritardi. È la giornata nella quale ha parlato Giorgia Meloni, garantendo che l'Italia per il clima farà la sua parte, con un approccio però molto pragmatico e molto poco ideologico. Dice Giorgia Meloni da Bacu a Azerbaijan, l'ambiente oramai va protetto senza freni ideologici. Serve piuttosto del pragmatismo, altrimenti il mondo si allontanerà da ciò che già oggi è indispensabile fare. Serve più di un compromesso, è evidente, dove compromesso significa per la Premier italiana, con divisione, presa di responsabilità tra paesi sviluppati ed economie emergenti. Noi come Italia, spiega Meloni, rispetteremo la roadmap esistente che vedrà il nostro paese ad esempio accelerare la distribuzione dei quattrini italiani stabiliti per il continente africano, budget uscito dai 4 miliardi del Fondo Italiano per il Clima, oltre al sostenimento di iniziative del Fondo cosiddetto per le perdite e lo sviluppo e al coinvolgimento del sistema finanziario. Meloni insomma intrattiene la platea di Bacu affrontando più temi ma con un occhio alla realtà europea e italiana. La titolare di Palazzo Chigi ha chiesto infatti neutralità d'opinione e presa di coscienza. Esempio tra i più aderenti l'eliminazione del carbone dalle nostre fonti energetiche che però va cadenzata e richiede ancora un'analisi profonda in base alla sostenibilità di ogni paese. Per Meloni serve equilibrio nel mix energetico del futuro prossimo. Per questo tutte le tecnologie già a nostra disposizione vanno utilizzate dai biocarburanti al nucleare. Serve, aggiunge ancora la Meloni, una prospettiva globale quanto meno realistica. Parlo da madre, dice, lavoro per le prossime generazioni. Entro sei anni spiega. La popolazione mondiale arriverà a quota 8 miliardi e mezzo ed il prodotto interno lordo globale raddoppierà così come aumenterà il consumo di energia tenendo in considerazione innanzitutto la crescente domanda di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ancora lei. Alle parole di Meloni fanno seguito quelle del Vaticano. Dice Monsignor Parolin, segretario di Stato Vaticano, a nome di Papa Francesco. Esiste un debito ecologico che poi è connesso a quello estero in molti paesi. Come dire, due facce della stessa medaglia. Le nazioni ricche devono riconoscere gli errori commessi in passato, cancellando il debito dei paesi più in sofferenza, più che di generosità. Stiamo parlando di giustizia, violata per decenni. Concetto ribadito anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, e rivolto in particolare ai piccoli paesi insulari, quelli che sono più a rischio per l'innalzamento del livello delle acque. I paesi del G20, dice Guterres, sono responsabili dell'80% delle emissioni globali. Avete ragione, ad essere arrabbiati. Parliamo adesso dell'iter della manovra, di come può cambiare a fronte degli oltre 4.500 emendamenti presentati. Se alla Camera i giochi stanno entrando nel vivo, la partita politica al Senato è tutta incentrata sul decreto legge fisco, che sul tavolo contiene molti cavalli di battaglia di tanti partiti. Il via libera, dato ieri in Consiglio dei Ministri, alla proroga del concordato preventivo, che sarà formalizzato con un emendamento al DL fiscale, è il segnale che il Governo è a caccia di nuove risorse da mettere sul taglio dell'IRPEF. Finora la prima tranche della misura ha incassato 1,3 miliardi, per una sforbiciata dell'imposta stime parlano della necessità di arrivare a 2,5 miliardi. La riapertura dei termini è stata fortemente voluta da Forza Italia, che ne rivendica il successo. Utilizzeremo le risorse che entreranno per sostenere il cito medio, abbassare l'IRPEF e per far pagare meno tasse alla famiglia italiana, il commento di Tagliani. Trovate poi le risorse per ampliare la base dei beneficiari del bonus di Natale per i lavoratori dipendenti. Giorgia Meloni rivendica il buonsenso usato per elaborare la finanziaria e attacca chi ha voluto il super bonus, anche non citandolo apertamente. Abbiamo di fatto smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra, dice la Premier, o in cose secondarie o addirittura inutili, quando non controproducenti. Dall'opposizione oggi è il giorno delle conferenze stampa, separate, ognuna con le proprie proposte, che in forma di emendamenti saranno presentate in Parlamento. Conte punta l'indice sul patto di stabilità firmato a Bruxelles, Macigno sui conti pubblici. Abbiamo avuto avanti una manovra schiacciata dal peso dell'irrilevanza europea di questo governo. Un'irrilevanza che ha messo in ginocchio l'Italia, ha firmato Meloni il patto, il patto di stabilità, il pacco di stabilità. Meloni sembra il mago Casanova di strisciare la notizia, fa giochi di prestigio, attacca i giudici, inventa complotti. A parole dice di voler tassare le banche e ci si accorda, critica il leader dei 5 Stelle. Elish Line attacca e definisce la manovra recessiva, tutta tagli e senza investimenti, e sui soldi, gettati dalla finestra, risponde. Hanno speso 800 milioni di euro per deportare persone innocenti in Albania, per poi scoprire che ai sensi della legge le dovevano riportare indietro. La segretaria Dem ha annunciato che 5 emendamenti alla manovra avranno le firme di tutti i leader di opposizione, su sanità, salario minimo legale e sui congetti paritari. La manovra ha come unica linea guida quella di distribuire mance di tutti i generi a fronte di una carenza dei servizi pubblici. Il commento di Carlo Calenda, leader di azione. In quella partita cruciale per l'esecutivo Beloni per un ruolo di peso nella Commissione Europea, ieri Raffaele Fitto ha tenuto, come sapete, il suo esame davanti al Parlamento per una vicepresidenza esecutiva. Se sia passato o meno lo sapremo nelle prossime ore, addirittura nei prossimi giorni, perché la cosiddetta maggioranza Ursula resta divisa su un nome che di fatto appartiene alla famiglia dei conservatori. L'esame europeo ormai è andato, ma il giudizio su Raffaele Fitto resta a sospeso. Bisognerà aspettare fino alla prossima settimana per sapere se sarà lui uno dei sei vicepresidenti esecutivi della Commissione, guidata da Ursula von der Leyen, con delega alla coesione e alle riforme, con responsabilità anche per il piano di rilancio. Nelle audizioni di tre ore e mezzo all'Europarlamento, il ministro di Fratelli d'Italia ha ribadito ieri il suo impegno per l'Europa. Con toni moderati e concilianti ha assorbito l'attacco dell'eurodeputata spagnola verde Anna Miranda Paz, che lo ha definito fascista. Fitto ha replicato, siamo lontanissimi dalla realtà. Gli hanno rinfacciato l'astensione di Fratelli d'Italia sul voto per il PNRR. Lui ha risposto che allora c'erano delle perplessità, ma che se si votasse domani voterebbe a favore. Sostenuto in pieno dal Partito Popolare europeo, dubbiosi i socialisti francesi e tedeschi. Raffaele Topo, l'unico eurodeputato del PD, membro della Commissione Regi, ha detto che l'audizione di Fitto è andata bene, mentre sono diverse le valutazioni dei partiti all'opposizione in Italia, con Verde e 5 Stelle che annunciano loro no. Oggi Giuseppe Conte ha definito piruetta, quanto detto da Fitto sul PNRR, per diventare commissario. Il PD è su posizioni diverse. Spiega l'europarlamentare PD Dario Nardella che Fitto è delle CR, un partito che non fa parte della maggioranza che ha rieletto Ursula von der Leyen e che, anzi, le ha votato contro in luglio, dopo che Giorgia Meloni si era astenuta in Consiglio europeo. Quindi c'è un problema politico che dovrà essere risolto dalla Presidente della Commissione UE. Intanto la Premier Giorgia Meloni attacca la segretaria Elislein. Trovo inconcepibile che alcuni esponenti del PD chiedano adesso di togliere al commissario italiano disegnato la vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. Vorrei sapere dalla segretaria se questa è la sua posizione ufficiale. vuole mettere il suo partito davanti all'interesse dell'Italia? Poco fa è arrivata la risposta. Non sono qua a rispondere a Giorgia Meloni. Sono dieci giorni che il governo ci impedisce di parlare di manovra. Ogni giorno c'è un elemento di distrazione, un fuoco d'artificio, un irrituale domanda alla leader del PD. Non sono io che devo rispondere a Meloni, ma lei e i cittadini e le cittadine. Andiamo a parlare adesso della guerra in Ucraina perché Mosca accelera. Secondo molti analisti si sta preparando all'attacco finale. Prova potrebbe essere l'attacco con missili e droni questa notte su Kiev, respinti dalla difesa aerea ucraina. Ma bombe sono state lanciate anche su Zaporizia e Kherson. Missili da crociera, missili balistici e droni. È stata una selva violenta di Ordini, oltre i 90, secondo Zelensky, a svegliare questa mattina l'Ucraina. Un attacco combinato di oltre due ore che ha incontrato, dice il presidente, una risposta efficace da parte della difesa aerea. E tuttavia a Berislav, nella regione di Kherson, secondo le autorità locali, uno dei droni russi ha ucciso una donna di 52 anni e ferito altre due persone, così come nella città di Antonivka. Esplosioni e feriti sono stati segnalati anche a Kiev, mentre il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un altro villaggio nel Donbass, Rivnopil, e la distruzione di aeroporti militari e impianti energetici. In vista di un possibile piano per la fine della guerra, così come promesso da Donald Trump, Mosca accelera, ritenendo ogni porzione di territorio conquistata terra annessa. Lo sa bene il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, che questa mattina nella sede NATO di Bruxelles ha detto. L'obiettivo di questa visita sta nell'assicurarsi che l'Ucraina abbia denaro, munizioni e forze militari sufficienti per combattere nel 2025, in modo da poter negoziare la pace in posizione di forza. Dopo aver incontrato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, Blinken ha inoltre invocato una risposta ferma degli alleati atlantici contro il convolgimento già in atto dello scenario di guerra delle forze nordcoreane, attualmente impegnate, come confermano oltre agli americani anche i servizi segreti sudcoreani, in combattimenti per respingere gli ucraini dalla regione russa del Kursk. Questo passo di Pyongyang rappresenta una minaccia in più per l'Ucraina, affermato il numero uno della NATO, aggiungendo che si tratta inoltre di una minaccia anche per gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, perché Mosca, in cambio di sossegno militare, fornisce tecnologia e missili alla Corea del Nord, confermando gli effetti globali dell'aggressione russa in Ucraina. Adesso il Medio Oriente, perché c'è stato il nuovo appello degli Stati Uniti affinché Israele accetti pause umanitarie reali e prolungate su Gaza, mentre non si fermano gli attacchi sul Libano. L'ultimo, il terzo in 24 ore, sulla periferia di Beirut ha provocato almeno sei morti. L'esercito ha reso noto che nel corso dei raid aerei sono stati uccisi diversi comandanti Hezbollah e distrutti depositi di armi e centri di comando. Intanto la Gia d'Islamica ha pubblicato un video che ha per protagonista Alessander Trufanov rapito. Il 7 ottobre dell'anno scorso lo stagio è stato sequestrato dal kibbutz dove viveva assieme alla nonna, alla madre e alla sua compagna. Le tre donne erano state rilasciate dopo due mesi di prigionia mentre suo padre è stato ucciso. Questa mattina un gruppo di attivisti pro-Palestina è entrato nella sede torinese di Leonardo dicendo di voler denunciare la complicità della Leonardo S.P.A. con il genocidio in corso a Gaza perpetrato dallo Stato illegittimo di Israele. Vedete le immagini, hanno detto i manifestanti degli attivisti in una nota. Una ventina sono entrati. La sede poi è stata sgomberata dalla polizia. Ci sono stati momenti di tensione, anche qualche danno. Negli uffici era in corso un'importante riunione anche con il personale della difesa. Queste persone vanno trattate per quello che sono pericolosi e avversivi non vezzeggiati come è accaduto a Bologna. ha scritto, a proposito di quanto avete visto, il ministro della difesa Crosetto. La pagina della cronaca che continua per parlarvi delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza che ci sono state oggi in Campidoglio. Secondo la Procura di Roma, l'ipotesi è quella di truffa e corruzione, nonché di turbativa d'asta e frode nell'ambito degli appalti per il rifacimento del manto stradale. Al centro di questa inchiesta ci sarebbero anche i fondi per il Giubileo. Appalti pilotati in cambio di tangenti e lavori per il rifacimento delle strade realizzate con asfalto di pessima qualità. Tutto questo al centro di un'indagine della Procura di Roma che questa mattina ha ordinato alla Guardia di Finanza di perquisire gli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio e la sede di Astral, società della Regione Lazio. Tra gli indagati quattro funzionari comunali, uno di Astral e due agenti della Polizia Municipale. Le accuse sono di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo gli inquirenti, un imprenditore, Mirko Pellegrini, anche lui indagato, sarebbe al centro di un disegno criminoso per ottenere in maniera illecita una serie di appalti per lavori di manutenzione di strade in quartieri periferici ma anche al centralissimo, fuori talico. Lavori per un importo complessivo di 100 milioni di euro di cui fanno parte anche fondi stanziati per il giubileo 2025. Le gare sarebbero state manovrate in cambio di mazzette o favori personali come l'assunzione dei figli degli indagati. I lavori di rifacimento stradale, inoltre invece di rispettare gli obblighi contrattuali, sarebbero stati effettuati a risparmio con uno strato di bitume sottile destinato a danneggiarsi alle prime piogge formando le buche che dovevano di nuovo essere riparate. Nel decreto di perquisizione è scritto che venivano utilizzati espedienti maliziosi e ingannevoli, idoni a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, con particolare riguardo allo spessore del manto di asfalto e alla quantità del materiale impiegato. Perquisita dai finanziari è anche la sede legale di un istituto di credito. Secondo il quotidiano La Repubblica si tratterebbe di una banca con sede a frascati che non risulta coinvolta nell'indagine, dove il direttore avrebbe aperto 170 conti correnti riconducibili all'imprenditore o ai suoi prestanome, scrive il quotidiano, senza segnalare le operazioni sospette a Banca Italia. I due vigili indagati invece, secondo i magistrati, avrebbero consentito il transito ai camion della ditta, anche se trasportavano un peso eccessivo rispetto ai limiti imposti e ai mezzi utilizzati per il movimento del materiale edile. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una ragazza di 22 anni, avvenuta nell'ambulatorio di un centro medico estetico della capitale, in cui doveva sottoporsi ad un intervento al naso. Nell'inchiesta sono indagati il titolare della struttura e il figlio, entrambi medici. Secondo una prima ricostruzione, questa ragazza si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale, è morta dopo quattro giorni di agonia lo scorso 7 novembre. I carabinieri della NAS hanno sequestrato l'ambulatorio, stanno chiaramente effettuando accertamenti, sarà adesso l'autopsia a chiarire le cause della morte della ragazza che avrebbe scelto il medico attraverso una ricerca sui social. A proposito di sanità, è arrivato l'ok della Camera alle misure per contrastare le violenze sui professionisti sanitari, dunque su medici e personale sanitario. Proprio oggi c'è stato un altro episodio di violenza nei confronti del personale ospedaliero accaduto al pronto soccorso di Reggio Emilia, dove domenica scorsa una minorenne ha colpito con un pugno in faccia a un infermiere ed è stato denunciato con l'accusa di lesioni a personale medico. Il sedicenne si era presentato in ospedale in stato di agitazione e durante l'attesa ha reagito con un pugno al tentativo dell'infermiere di calmarlo. Siamo alla pagina sportiva, la pagina sportiva che non può anche oggi non aprirsi che con Yannick Sinner. E' sempre lui l'uomo da battere, anche in una giornata così così Sinner conferma le sue doti di numero uno. Non era facile superare uno scatenato Taylor Fritz, l'americano non aveva nulla da perdere e poi il servizio dell'italiano ieri non ha funzionato a dovere. Ma è proprio in queste occasioni, quando il match si gioca a punto a punto, che emerge la forza mentale del più forte giocatore del mondo. E' sostanzialmente questo che differenzia il numero uno dal numero 5, la capacità di alzare il livello quando contano, in momenti importanti. E così due break nel finale di entrambi i set sono costati l'incontro a Fritz, uscito comunque soddisfatto dal campo perché ha sentito di essere molto vicino al campione azzurro. Nulla a che vedere con la finale giocata dei due a New York a settembre, nell'ultimo slam della stagione nella quale il dominio di Yannick era stato evidente. Lì la pressione era tutta su Fritz, primo americano a riuscire ad arrivare all'ultimo atto 18 anni dopo Andy Roddick. A Torino invece il peso è sulle spalle dell'italiano perché gioca in casa e lo fa da grande favorito per la vittoria finale. Nonostante non abbia concesso un set nei primi due incontri Sinner però non è ancora certo di essersi qualificato per le semifinali. Dovrà aspettare giovedì quando affronterà il re di vivo Medvedev che dopo la brutta sconfitta nella prima giornata con Fritz ieri è tornato sui suoi livelli superando agevolmente l'australiano De Minor che ormai non ha nulla da chiedere a questo torneo. Basterà vincere un set l'italiano con il russo per superare il girone e potrebbe anche non servire se ci fosse il colpo di coda di De Minor nell'incontro del pomeriggio con Fritz. Ma Sinner non è tipo da fare calcoli. Entrerà in campo per vincere come fece alle ATP Finals dell'anno scorso quando superò Rune nel girone mantenendo così in gara Djokovic per poi ritrovarsi in finale il serbo che lo battè. La serietà e l'impegno prima di tutto è questo il credo di Sinner. A quanto pare sarà proprio un cuore giallorosso come quello di Claudio Ranieri a essere chiamato per risolvere i mali della sua Roma. Pochi mesi fa quando Claudio Ranieri dopo aver conquistato la salvezza annunciò l'addio al Cagliari disse che un giorno gli sarebbe piaciuto allenare una nazionale ma che nella sua vita di allenatore aggiunse non ci sarebbero state più squadre di club. Ma il fatto è che la Roma per Ranieri è molto più di una squadra e una questione di cuore. Non è mai stato capace di dire no al club in cui ha giocato e in cui ha allenato per il quale ha tifato. 16 anni fa presi il posto di Spalletti e alla fine spiorò lo scudetto contro l'Inter di Murigno. 6 anni fa dopo un'impresa della Premier vinta con il Leicester rispose ancora una volta presente alla chiamata sostituiti Francesco per arrivare a fine stagione l'uomo della sicurezza il rifugio sicuro a cui aggrapparsi nel momento della tempesta e stavolta di tempesta ce n'è stata tanta. I Friedkin hanno pensato a lui quando hanno scoperto che sarebbe stata dura trovare un allenatore disposto ad accettare le loro condizioni arrivare a fine stagione poi si vedrà un traghettatore insomma. Troppo grande l'ambizione di Allegri e Mancini per accettare un ruolo del genere troppo complicato arrivare a Montella regato alla nazionale turca e a furia di scartarli di petali alla fine nelle mani di Friedkin ne è rimasto solo uno l'unico possibile chi meglio di Ranieri chi se non lui l'uomo che conosce perfettamente l'ambiente che è amato dai tifosi romanisti a prescindere pratico capace di affrontare e risolvere i problemi in Inghilterra dove visse uno scudetto storico con il Leicester lo chiamavano l'aggiustatore. Un finale che potrebbe sembrare persino romantico di una storia non certo edificante e in parte lo è per lo meno per la parte che riguarda Ranieri. Anche stavolta ha risposto sì. Ieri sera è volato a Londra per incontrare i Friedkin in fondo non aspettava altro tanto che negli ultimi giorni si era messo a studiare le eventuali correzioni dove intervenire nel caso fosse arrivata la chiamata e quella chiamata è arrivata. Salvo ulteriori colpi di scena Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma il terzo di questo inizio di stagione. Il futuro che lo attende non è semplice a cominciare da quello immediato Napoli, Tottenham, Atalanta alla ripresa dopo la pausa ma questo è solo un dettaglio per un uomo di 73 anni che ha dimostrato di saper vincere sfide ben più complesse. Allora ancora notizie tra pochissimo saluto Giulia Avataneo ce ne sono anche di molto importanti e seri per quanto riguarda il maltempo vero Giulia? Sì certo Luca ben trovato parleremo anche noi del clima in particolare dei fenomeni estremi e del nubifragio che ha investito la costa catanese con molti danni questa mattina attraverso le tante immagini che arrivano dai social media. Ci sarà poi anche spazio per la politica e per lo sport con il racconto dietro le quinte delle ATP con il nostro grande protagonista Yannick Sinner. A te la linea. Grazie allora noi ci fermiamo per qualche istante tra poco torniamo con lo spazio digitale e gli aggiornamenti. Adesso video e notizie dalla rete con Giulia Avataneo. Grazie Luca ben trovati nuovamente mentre si parla di crisi climatica alla conferenza per il clima che si è aperta purtroppo tra le conseguenze già molto visibili e reali dei danni e dei fenomeni estremi meteorologici a cui assistiamo. In particolare andiamo subito a vedere cos'è successo questa mattina lungo la costa catanese. Un disastro nella zona soprattutto di Torre Archirafi. Sentite e vedete soprattutto le strade trasformate in fiumi e le auto trascinate in pochi secondi verso il mare. Vediamo insieme. I bambini stanno dormendo per fortuna ancora. Rimaniamo pure sulle immagini, vi do qualche dettaglio in più. La zona più interessata è quella di Torre Archirafi. Le immagini si riferiscono proprio a questo piccolo borgo sulla costa che ha poco più di 2000 abitanti. Situazione difficile anche a Giarre e a Cireale. Sull'A18, sull'autostrada, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere diverse persone rimaste intrappolate nelle loro auto. Tutto questo a causa di un pesante nubifragio che in parte era già previsto. C'era un'allerta arancione che ha portato alla chiusura, alla sospensione delle classi, delle scuole di oggi in alcuni comuni, ma non era sicuramente previsto in queste proporzioni. Ed è una nuova allerta meteo quella che interessa anche la costa spagnola, in particolare nelle zone già interessate dalle alluvioni Valencia con oltre 200 vittime. Per questo andiamo su X un attimo, vi faccio vedere come alcuni abitanti stiano cercando di correre ai ripari, sistemando, cercando di salvare le loro auto in vista di possibili allagamenti che però vi porto ora a Malaga a vedere che si stanno già verificando. Qui sono state evacuate 3.000 persone con un'allerta fortissima per fenomeni estremi. Scuole chiuse anche qui, anche in Spagna, in 60 comuni, nuovamente nella comunità valenziana, ma anche in 5 aree catalane. Ora, apriamo una pagina invece dedicata alla politica e andiamo negli Stati Uniti perché circola molto una risposta, o per meglio dire una risposta negata, non data da parte del Presidente Biden, interpellato da una cronista israeliana che gli chiedeva se secondo lui fosse ancora possibile, entro il suo mandato, raggiungere un accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani. È un frammento brevissimo, lo ascoltiamo insieme. Ecco, così il Presidente Biden ha congedato in fretta e furia i reporter quando gli è stato chiesto degli ostaggi israeliani. La giornalista che lavora per un'emittente israeliana, il canale 13 israeliano, ha condiviso il frammento video commentando anche che trova preoccupante il fatto che non ci sia una strategia e che appunto non le sia stata data una risposta. Si attende di sapere quale sarà il futuro politico di Kamala Harris dopo la pesante sconfitta nei confronti di Donald Trump, però intanto la Vice Presidente è tornata al lavoro, accolta dagli applausi della Casa Bianca, dei dipendenti dell'amministrazione federale degli Stati Uniti. Vi faccio vedere anche questo filmato. Sicuramente sul tavolo dell'attuale e della futura amministrazione statunitense ci sarà il conflitto in Ucraina. E proprio qui ci portano le prossime immagini documentate ampiamente sui social media questa mattina. Parliamo dell'allarme aereo che ha svegliato questa mattina gli abitanti di Kiev a causa del masticcio attacco di droni che vi abbiamo documentato anche nel nostro telegiornale. E qui vediamo le stazioni della metropolitana nuovamente trasformate in rifugi improvvisati. Agli abitanti è arrivata un'allerta attraverso telegram e sugli smartphone che pregava di rimanere al riparo finché l'allarme non fosse cessato. E così hanno fatto gli abitanti della capitale. Si è parlato di Ucraina, del conflitto anche a Bruxelles. L'avete sentito nel nostro Tg durante il vertice Nato, ma a Bruxelles erano in primo piano anche le audizioni dei futuri commissari dell'Unione Europea. Tra questi l'audizione di Raffaele Fitto che però più che altro ha tratto l'attenzione, oltre che per i temi affrontati, anche per l'inglese, per così dire scolastico, del ministro. Ne sentiamo un breve passaggio. Thank you for entrusting me with the role of executive vice presidents for cohesion and reforms. I want to be clear. I'm not here to represent a political party. I'm not here to represent a member state. I am here today to affirm my commitment to Europe. I'm aware of the requirements placed upon the members of the Commission under the treaties and the code of conduct. L'audizione di Fitto è stata molto rilanciata sui social media e anche commentata. Alcuni tra i cronisti presenti in audizione ieri hanno fatto notare anche come, prendendo la parola, alcuni europarlamentari abbiano rimarcato l'accento di Fitto. In particolare un europarlamentare ungherese l'avrebbe lodato, un po' ironicamente, per il suo meraviglioso accento italiano. Ora però ritorniamo in Italia. Vi avevo anticipato che avremmo parlato anche di Yannick Sinner. Nel dietro le quinte delle ATP Finals che si stanno giocando a Torino ha incontrato Massimiliano Allegri e con l'allenatore, l'ex allenatore della Juventus, ha avuto un vivace scambio di battute. Sentiamo. Chiudiamo qui. Tutte le nostre notizie potete continuare a leggerle su tg.lasette.it e su tutti i nostri canali social. La linea torna a Luca Speciale. Grazie Giulia. Allora prima di chiudere un veloce aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente perché fonti iraniane hanno riferito che l'Iran sta rimandando il suo attacco agli Stati Uniti, il suo attacco a Israele, scusate, in attesa di avere un incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ed avviare dei negoziati. Peraltro il ministro degli esteri iraniano fa sapere che i canali con gli Stati Uniti sono tuttora aperti. Adesso la linea a Tagadati, Ziana Panella e i suoi ospiti. Grazie per averci seguito. A domani.